Allora io devo fare un video di presentazione di chi è Niccolò Battisti e ho voluto farvi vedere il circolo centro storico del Partito Democratico di Lucca che da tanti anni ormai è per me un punto veramente di riferimento, un punto in cui devo dire ho trovato degli amici e i miei amici hanno 70, 75, 80 anni e in questo posto negli ultimi anni ho saputo ascoltare e imparare tante cose ho saputo soprattutto ascoltare le problematiche che tanti anziani ma anche tanti giovani, tanti immigrati, tanti ex comunitari hanno vissuto negli ultimi anni l'ho saputo ascoltare e da qui comunque sicuramente è partito il mio interesse per la voglia di sviluppare politica e questo è il mio partito, questa è la mia politica vera